Questo è un formaggio. Today we're going to learn la patatina alla italiana. La più bella patatina del mondo. Io ho testato tra patatina, ma come la italiana non c'è. Sacarla. La cosa più bollente del mondo. La più bollente, la più bella del mondo. La più bollente, la più bella del mondo.